Ciao e benvenuto su Elenco Prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori cuffie Beats. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista c'è cuffie Beats solo 3 wireless. Beats solo 3 wireless headphones sono l'accessorio perfetto per la tua vita. Sono senza fili, quindi puoi ascoltare la musica o rispondere alle chiamate senza essere legato da fili. Il chip Apple 1WT da connettività Bluetooth di classe 1 e fino a 40 ore di durata della batteria. E con la ricarica Fast Fuel, 5 minuti di ricarica danno 3 ore di ascolto. Non devi preoccuparti di esaurire l'energia al momento sbagliato mai più. Inoltre, queste cuffie sono dotate di padiglioni regolabili che piegano piatta per una facile memorizzazione nella loro custodia inclusa. E con la ricarica Fast Fuel, 5 minuti di ricarica ti danno 3 ore di ascolto. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza energia al momento sbagliato. Inoltre, sono dotate di padiglioni regolabili che si piegano per essere riposte facilmente nella loro custodia inclusa. Guarda grande sulla tua testa. Le cuffie wireless Beats solo 3 sono disponibili in 7 splendidi colori. Nero, bianco, blu, grigio, rosa-rosso e marrone. Sembrano anche grandi da ogni angolo grazie al telaio metallico elegante e arrotondato. 4 gradi posto abbiamo Beats solo Pro Wireless. Abbiamo una soluzione per questo. Le nostre cuffie ti permettono di bloccare tutti i rumori ambientali in modo da poterti concentrare sulla tua musica. Non sarai mai più distratto dai rumori esterni. Classium per una portata ancora maggiore e meno perdite di connessione che mai. Così, sia che tu le usi a casa o in viaggio, funzioneranno sempre alla perfezione. Con fino a 22 ore di tempo di ascolto, queste cuffie continueranno a giocare a lungo dopo la maggior parte degli altri auricolari wireless sarebbe a corto di energia. E se la batteria muore, basta collegare il cavo Lightning incluso per continuare a godere le vostre canzoni preferite senza saltare un colpo. Numero 3. Abbiamo auricolari Power Beats. Gli auricolari Power Beats Pro Wireless sono la scelta perfetta. Sono totalmente wireless, auricolari ad alte prestazioni che offrono fino a 9 ore di ascolto e oltre 24 ore con la custodia di ricarica. Inoltre, sono leggeri, regolabili per il comfort e la stabilità e dotati di un chip per cuffie Apple H1 in modo da poter godere di una gamma ancora maggiore e meno perdita di connessione che mai. Questi auricolari sono compatibili con i dispositivi iOS e con i dispositivi Android. Gli auricolari Power Beats Pro Wireless sono la scelta perfetta. Sono totalmente wireless, auricolari ad alte prestazioni che offrono fino a 9 ore di ascolto e oltre 24 ore con la custodia di ricarica. Inoltre, sono leggeri, regolabili per il comfort e la stabilità, e dotati di un chip per cuffie Apple H1 in modo da poter godere di ancora più gamma e meno perdita di connessione che mai. Numero 2. Abbiamo Beats Studio 3 Wireless. Le cuffie Beats Studio 3 Wireless Noise Cancelling sono la scelta perfetta. Sono progettati per essere confortevole e suono incredibile, con pure ANC che blocca attivamente il rumore ambientale. Si può anche ascoltare più a lungo confino a 22 ore di durata della batteria con una singola carica. E quando è il momento di accendere, Fast Fuel T offre 3 ore di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica. Con il chip Apple 1W e la tecnologia Bluetooth leader del settore, avrai una gamma di movimento più ampia che mai mentre rimani connesso in modalità wireless, se il tuo telefono è in tasca o dall'altra parte della stanza. True Wireless Optics fornisce un suono ricco e potente senza vincoli. Con Fast Fuel, 5 minuti di ricarica ti danno 3 ore di riproduzione, così non dovrai mai preoccuparti che la batteria muoia al momento sbagliato. Il Beats Acoustic Engine monitora automaticamente l'uscita audio ed effettua regolazioni in tempo reale, così puoi alzare il volume senza preoccuparti di danneggiare i coni. Per finire, il numero 1 della nostra lista è Beats Studio Buds. Le cuffie Wireless Beats Solo 3 sono la scelta perfetta. Sono senza fili, comode e hanno fino a 40 ore di durata della batteria. Inoltre, sono dotate di un chip Apple 1W in modo da poter passare facilmente tra i tuoi dispositivi senza perdere un colpo. Puoi anche rispondere alle chiamate o attivare Siri usando solo la tua voce. Non c'è niente di meglio di questo. Ecco perché abbiamo progettato queste cuffie con la tecnologia Dual Mode Adaptive Noise Cancelling che regola automaticamente in base al vostro ambiente, così se siete a casa o fuori a fare commissioni, tutto suona bene. E se ANC non è ciò di cui hai bisogno in questo momento, basta premere pausa e lasciare che il mondo venga attraverso forte e chiaro grazie ai nostri driver audio di alta qualità integrati in ogni padiglione. E poiché le cuffie wireless Beats solo tre sono progettate per andare ovunque. Sono costruite con materiali resistenti e morbidi che le rendono incredibilmente leggere e confortevoli. Sono anche pieghevoli, il che rende il viaggio super facile. Tra i tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto premi il pulsante mi piace e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri.